ciao allora in questo video tanto tanto atteso da tutti no in realtà lo volevo fare io per ricordarmi questi momenti così belli di schizzi e di bagno di cane perché appunto andremo a fare il bagnetto a mia arriveremo lì al self service lei capisce che si trova lì e che deve farsi il bagnetto e comincerà a scappare e a fare la pazza ora vedrete come devo fare? andiamo a fare il bagnetto mia bagnetto dai dai andiamovi amore bisogna prenderla in braccio e ora riprendi ecco dai sei pronta ce la possiamo fare forza dai andiamo per il bagnetto eccoci allora la prima cosa che ti consiglio di fare è di legarla perché vorrà scappare vedi che lì c'è una specie di sì buona perché salta sì dove l'attacco non c'è il collare ops buona possiamo attaccarla perché non abbiamo il collare ti piace il bagnetto mia ti piace il bagnetto mia? mia ma l'attacco la candela ferma? è perché lì sta proprio sul bordo allora la cosa buona di questo posto è che posso togliere la mascherina che sto all'istanza? la cosa buona di questo posto è che l'acqua non bisogna regolarla quindi basta aprire il ripinetto ed esce già dalla temperatura è giusto per loro quindi già questo per me è un grande sollievo di stare un sacco di tempo stranamente non si è ancora buttata fuori dalla masca sta ferma e quindi procedo con il primo lavaggio e il secondo lavaggio questa è la buona buona questa è la procedere a risciotto brava buona brava questa resta buona oggi adesso si procede al secondo passaggio con l'aspiratore giusto vi dicono dalla regia praticamente si tratta di eliminare tutta l'altro l'eccesso quindi abbiamo una bella asciugatura preasciugatura facendo così con il profilo che dire ce l'abbiamo fatta? eh? signorina? è la prima volta che non mi salto addosso e non mi fa la bambina non mi fa la doccia tanto l'ha fatta a me la proprietà è di confermare se qualcuno mi conosce si però l'ha fatta a te facciamo vedere come è che bello oh mio dio sono una persona più felice del mondo grande che schifo beh dai profumi di mia, peli e tanto affetto e niente quindi si è ancora tutta bagnata tutti i nostri sacrifici non sono serviti perché vabbè ora è estate quindi non fa niente è ancora un po' bagnata un po' umida si asciuga il sole diciamo però anche in inverno questo è un problema perché lei odiando l'acqua pur essendo un gold retriever proprio rifiuta qualsiasi approccio anche di asciugatura ha come la fobia del phon vabbè comunque ce l'abbiamo fatta e io non mi sono fatta il bagno Michele invece si quale sacrificio tu hai mai fatto mai e non lo farò mai più